Voglio mezz'ora di ritardo, ma c'è da avere! Eccomi! Oh, meh! Orario! Mi devo organizzare o no? E allora, sentite, e come andiamo? Io ho la macchina! Ah, sei auto munita? Eh sì! Io invece ho la moto! Ah, sei moto munita? Sì! Dite cliché! Ah, allora sei! Beh, c'è manica! Guarda solo! Sì, veramente!